Il Ferragosto con le mucillaggini porta all'assalto delle piscine Dai concerti alle rievocazioni storiche, Ferragosto con tanti appuntamenti in provincia Crisi idrica si continua con i prelievi dal Burano e si aumentano quelli dal Furlo Una stanza d'albergo come base dello spaccio albanese trovato con 65 grammi di cocaina I cambiamenti climatici posticipano le date di partenza della raccolta del tartufo Un saluto a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Rossini TV Ben ritrovati con il nostro telegiornale con Rossini News per l'edizione del 14 agosto Alla vigilia di un Ferragosto che si annuncia quanto mai anomalo A causa del problema delle mucillaggini che continua a infestare il mare adriatico E che gioco forza dirotterà molti frequentatori delle spiagge in altri luoghi Su tutti le piscine letteralmente prese d'assalto in questi giorni In un'estate dove la mucillaggini sta facendo da protagonista nel mondo della balneazione Sono in molti a cercare un luogo alternativo al mare dove passare i giorni più caldi dell'anno Soprattutto a Ferragosto Parte così l'assalto alle piscine da parte di tantissimi residenti sia della costa che dell'entroterra Ha stravolto il nostro lavoro in senso certamente positivo però è stato veramente difficile finora Credo che fino a fine stagione dovremmo impegnarci molto perché ci dispiace dire di no A chi viene da una situazione di mare purtroppo difficile da affrontare E quindi siamo presi d'assalto da molti pesaresi, fanesi, ci sono oggi gabicesi fino a cattoliche Facciamo del nostro meglio per soddisfare le richieste di questi ospiti Noi siamo la balneazione dell'entroterra, siamo nati come balneazione dell'entroterra Noi da tutta l'entroterra, da Fermignano, Urbino, Petriano, Valle Foglia naturalmente Che è una città splendida Riusciamo nel periodo di giugno e luglio a soddisfare le richieste dei centri estivi Perché i bambini vengono tutti qui fin da 3 anni, vengono nelle nostre piscine Poi qualcuno la domenica anche da Pesaro Adesso invece siamo presi d'assalto Alla ricerca di un luogo dove fare un bagno privo di mucillagini Le giornate di ferragosto potrebbero portare ad un vero e proprio dualismo Dove la scelta sarà tra fiumi o piscine Io spero di piscine, i fiumi, io ho anche il barbetto da bagnino Sono molto pericolosi, non li consiglio minimamente Perché sono portatori di batteri che in teoria nel mare non ci dovrebbero essere In quanto l'acqua salata disinfetta E poi è molto pericoloso il fiume È facile che ci siano delle difficoltà A meno che non ti metti sul greto del fiume e stai con le piedini Ma fare il bagno del fiume è molto pericoloso Parlando di pulizia dell'acqua Ci spostiamo in un luogo che non viene frequentato dagli amanti delle piscine Ma che rappresenta il cuore centrale della pulizia delle acque Ed anche uno dei motivi principali che ha portato a questo assalto estivo La centrale depurazione piscine dove noi, grazie al lavoro di Nicola che poi dirà come funziona Depuriamo in 4 ore e mezzo 500 metri cubi d'acqua Rendendo la balneazione sempre sicura ed efficace L'acqua prende dalla piscina agli skimmer E passa attraverso i filtri con l'aiuto dei motori E poi ovviamente dentro i filtri c'è il vetro che filtra tutto E poi ributta nella piscina l'acqua pulita Non solo mare o piscina Saranno tantissimi gli appuntamenti culturali e musicali Per la giornata e la serata del 15 agosto Il ferragosto condizionato dalle mucillagini in mare Non scongiurerà le feste in spiaggia Che avranno anche quest'anno il loro polo d'attrazione Soprattutto nell'arenile sottomonte di Pesaro Tanti però anche gli appuntamenti culturali Fra musica e musei nel ferragosto di Pesaro Capitale della cultura Concerti che saranno apertura e chiusura di giornata Dall'alba a mezzanotte Si comincia infatti le 5.45 All'ombra della scultura riflesso dell'ordine cosmico All'imbocatura del porto di Pesaro Una suggestiva alba di contaminazione Fra musica, danza e scultura Nell'ambito del progetto Lo spazio in ascolto Alle 21.30 ci sarà invece il concerto di Annalisa Minetti Nel palcoscenico della palla di Pomodoro La Minetti spazierà fra cover di grandi classici E suoi pezzi originali In una performance che sarà aperta Dalla giovane cantante pesarese Lili Musica di ogni genere Perché il Rossini Opera Festival Non va in feria a Ferragosto Alle 11 di mattina Nuovo appuntamento con i concerti Al Museo Nazionale Rossini Con gli allievi dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda Alle 16 invece Una rarità del ROF Con la cantata Il Vero Maggio Al Teatro Rossini A Pesaro saranno poi aperti tutti i musei Sia al mattino che al pomeriggio Così come sono attivi i tour organizzati Il tour capitale Che ora include anche l'inedita visita a Rocca Costanza E il tour escursionistico del Parco San Bartolo Escursioni e natura Protagonisti anche nella settimana Del progetto Capitale al Quadrato Dedicata alla riserva del Furlo Con appuntamenti organizzati dal centro visite della riserva E con la visita in anteprima assoluta Al Parco delle Sculture Con Andreina De Tomassi e Antonio Sorace Sarà la musica a farla da padrona Nelle Ferragosto Serali di Fano In zona Lido protagonista il rock Con il concerto di Catch the Giant A partire dalle 21 Dopodiché il Popolo della Notte Potrà scatenarsi al Porto In Viale Adriatico Con DJ Samuel dei Subsonica A Mondavio invece Uno degli appuntamenti più suggestivi della provincia Con la serata conclusiva Della rievocazione storica Della caccia al cinghiale Dalle 18 a mezzanotte Una lunga serata di tuffo Nelle atmosfere rinascimentali Fra dame, ancelle, balestrieri Il Paglio delle Contrade E spettacoli di fuoco e falconeria Grande serata di feste e musica in piazza Anche a Carpegna Mentre a Gabicce Mare Il Ferragosto si chiuderà Con un grande spettacolo pirotecnico Nell'area del Porto Condivisa con Cattolica E restando in tema d'estate Andiamo a scoprire come procede La bella stagione del comune di Mondolfo In una sinergica alternanza Fra la costa e il borgo storico L'estate è ormai entrata nel vivo E con essa anche il turismo Tra chi preferisce la costa ed il suo mare E chi invece addentrarsi all'ombra del verde Dell'entroterra e passeggiare per storici borghi All'interno di queste richieste Il comune di Mondolfo Si inserisce per soddisfarle entrambe Come racconta il sindaco Barbieri Che fa il punto sull'estate turistica mondolfese Siamo soddisfatti della stagione La proposta degli assessorati al turismo e alla cultura È stata una proposta davvero di grande qualità Abbiamo avuto tanti eventi Per tutti i gusti Dalle rassegne letterarie Al festival musicali Abbiamo da poco concluso il festival degli anni 80 Con un grande concerto di Raff Che è stata una figura iconica di quegli anni Ma abbiamo avuto anche grandi autori Del panorama culturale italiano Con la rassegna letteraria Come un libro all'aperto Tanta partecipazione L'iniziativa del comune Ci fa davvero molto piacere Il ringraziamento come amministrazione comunale Va a tutti i volontari Delle associazioni del territorio Che contribuiscono con noi All'accoglienza dei turisti Nel nostro territorio Attraverso eventi di qualità Ora ci apprestiamo Ad un mese A delle settimane Molto importanti Dove vediamo tanti turisti Per le strade Delle vie del nostro territorio Quindi ci fa davvero molto piacere E in più Avremo la settimana Dedicata a Mondolfo Di Capitale Italiana della Cultura Insieme a Pesaro Che sarà una settimana Di grandi eventi Sulla fisarmonica Che è uno strumento Che ha caratterizzato Il nostro territorio E la storia di Mondolfo Non solo la costa di Marotta Ma anche il borgo storico Di Mondolfo Su questa doppia trazione turistica Si basano anche altre attività Della comune Per attrarre i turisti Il nostro territorio È proprio la terra Delle due vacanze in una Quindi Mondolfo Uno dei borghi più belli d'Italia Con il suo centro storico E Marotta La località turistica Con il suo mare Bandiera Blu E quindi cerchiamo Attraverso le iniziative Anche con il sostegno Delle associazioni del territorio Di far vivere appunto il territorio Far conoscere i luoghi più belli E suggestivi che abbiamo Ad esempio Tutti i mercoledì Con l'Archeoclub Organizziamo le passeggiate Lungo il centro storico Con dei ragazzi Che ci danno una mano A far conoscere le bellezze Il patrimonio artistico e culturale Che abbiamo Ma tante altre piccole iniziative Che organizziamo Per tutto il territorio E quindi per accogliere al meglio I turisti Che verranno a visitarci Anche nelle prossime settimane Parliamo ora della crisi idrica Da il perdurare Dell'assenza di piogge Non attenua la crisi D'approvvigionamento idrico Nella provincia di Pesaro Urbino Stamattina si è tenuto Il comitato provinciale Della protezione civile Nel corso del quale Si è stabilito Che non si può ancora ridurre Il prelievo dal Pozzo Burano Che è stato aperto Lo scorso 9 agosto Con una portata Di 300 litri al secondo Contestualmente Verrà aumentato Il rilascio Della diga del Furlo Di 150 litri al secondo E ridotto Il rilascio Di quella di Tavernelle Che rischia Il prosciugamento Il comitato Si riunirà nuovamente Lunedì Nella speranza Che le piogge Previste per il fine settimana Abbiano un significativo Effetto positivo Sulle riserve idriche Parliamo adesso Invece di un fatto Di cronaca Di un arresto Per spaccio di droga Che riguarda Un 35enne Albanese Che è finito In manette Dopo che da oltre Un mese Utilizzava una stanza D'albergo Di Pesaro Come base Della sua attività Di spaccio Le indagini Della squadra mobile Hanno permesso Di seguire L'attività Del soggetto Già attenzionato Per analoghi Reati Nella provincia Di Rimini Dopo un pedinamento Fra l'albergo E la stazione I poliziotti Hanno fermato Il 35enne E l'hanno trovato In possesso Di un involucro Con ben 60 grammi Di cocaina Occultata Nelle parti intime Altri 5 grammi E mezzo Già suddivisi In 6 dosi Sono stati trovati Nella successiva Perquisizione In albergo Assieme a 540 euro In contanti E diverso materiale Per il trattamento E confezionamento Delle sostanze L'uomo E' stato arrestato E il tribunale Di Pesaro Questa mattina Ne ha disposto Il provvedimento Di reclusione In carcere Doppio sequestro Da parte Della polizia Locale Di Fano Invece Durante un'attività Di vigilanza Sul commercio Abusivo Sono stati intercettati Due venditori Ambulanti Irregolari Nei pressi Dei bagni Imperial E dello stabilimento Islamorada Venditori Che sono scappati Fra i bagnanti Prima di essere Identificati Sulla spiaggia Hanno abbandonato Merce consistente In 30 bandane 32 elastici 10 cappelli 840 collanine E 75 abiti Passaggio di consegne Invece Nel comando provinciale Della guardia Di finanza Dove ha salutato Il tenente Colonnello Tommaso Commissione Destinato Alle fiamme gialle Di Ravenna Dopo tre anni Alla guida Del nucleo Di polizia Economico Finanziaria Di Pesaro Gli subentra Il tenente Colonnello Luigi Sorrentino 39 anni Di origine Campane Reduce Dall'incarico Di comandante Del gruppo Tutela finanza pubblica Presso le fiamme Gialle Di Treviso E' stato avviato Ufficialmente Il nuovo mandato Del municipio Di Monte Cicardo Il sindaco Di Pesaro Andrea Biancani Ha simbolicamente Consegnato La fascia Tricolore Di prosindaca A Marica Pierucci Che succede All'incarico Precedentemente Detenuto Da Claudio Bonazzoli Un mandato Che per Monte Cicardo Si è avviato Con un'importante Partenza Del cantiere Da oltre Mezzo milione Di euro Per il restauro Delle mura Storiche Del borgo E sempre Dal comune Di Pesaro E' arrivato Il via libera Agli interventi Di riqualificazione Dell'impianto Di riscaldamento Delle case Popolari In gestione All'ERAP Marche Di via Petrarca A Muraia Ad annunciarlo Il sindaco Biancani E l'assessora Mila Della Dora Per un lavoro Di straordinaria Manutenzione Da 250 mila euro Che permetterà Di rendere Autonomi I riscaldamenti Di circa 40 alloggi Popolari Ed ora Parliamo Del ROF Perché torna Il 16 E il 19 Agosto All'auditorium Scavolini Il viaggio Reims Cantata scenica Diventata Un simbolo Del festival Dal 2001 Infatti Il ROF All'interno Del suo festival Giovane Propone L'opera Nell'interpretazione Di giovani voci Formatesi Nell'ambito Dell'Accademia Rossignana Alberto Zedda Da venerdì I allievi Della 36esima Accademia Saranno dunque I protagonisti Dello storico Spettacolo Ideato Da Emilio Saggi Ed ora Informiamo Invece I telespettatori Che per motivi Di salute Dell'artista E' stato annullato L'evento Di Ezio Greggio Una vita Sullo schermo Che era in cartellone All'arena BCC Di Fano Per i rimborsi E' necessario Contattare La società Presso la quale Si è acquistato Il proprio Biglietto I cambiamenti Climatici Sono destinati Invece Ad influire Sul periodo Di maturazione Dei tartufi Motivo per cui La regione Marche Ha rivisto Il calendario Che consente La raccolta Dei pregiati Tuberi Il cambiamento Climatico Influisce Anche sulla raccolta Del tartufo La regione Marche Ha infatti Ratificato Il nuovo Calendario Di raccolta Del prezioso Tubero Che per il 2024-2025 Sarà circoscritta Al periodo Compreso Fra il 1 ottobre Il 15 gennaio Si vuole dunque Salvaguardare In particolare Il periodo Di maturazione Del tartufo Bianco Pregiato Escludendo Del tutto Il mese Di settembre Dalle periodo Di raccolta Portiamo L'apertura Della ricerca Al 1 ottobre A seguito Dei cambiamenti Climatici Dello spostamento Delle stagioni E anticipiamo La chiusura Il 15 gennaio Una modifica Voluta Dal tavolo Tecnico Del tartufo E quindi Concertata Con tutti I portatori Di interesse Che girano Intorno A questo Grande Oro Della terra Un prodotto Che nella nostra regione Si trova 365 giorni All'anno E soprattutto In tutto il territorio Regionale Andiamo adesso Al ristorante La Giara Dove il 18 Agosto Sarà ospitata La finale regionale Del concorso Di bellezza Miss Grand International Ad illustrarcela E la sua Coordinatrice Francesca Guidi Questa Questa è la finale Regionale Quindi da qui Traghietteremo Poi Anzi La giuria Decreterà Le finaliste Nazionali Che si svolgerà La serata di gala Il primo di settembre A Roma Con anche Lì Grandissimi Ospiti Qui da noi Al ristorante La Giara Sarà una serata Veramente Piena E ricca Sia di emozioni Ma proprio anche Di tanti ospiti In giuria e non Solo circa Una ventina di ragazze Provenienti da tutta La regione E molto molto Carine Ma non perché lo dico io Perché c'è stata già Una preselezione Un paio di settimane fa Al locale Del Mediterraneo Show restaurant E quindi Dai Sono orgogliosa Di portarli In questa serata Così importante Per loro Con Come ho detto prima Tantissimi ospiti A partire Dalla Gymnal Che ci farà Un'esibizione Di danza Quindi Non solo Ritmica O artistica Ginnastica Ma questa volta È danza Poi avremo Due cantanti Una più affermata Sempre marchigiana Barbara Vagnini Che è una cantautrice I sound Quelli lì Tormentoni estivi Quindi Un suo Due suoi inediti E poi abbiamo Un Un vero talento Un vero portento Che è un ragazzino Di 12 anni Che si chiama Bjorn Aslani È un albanese Ma vive proprio Nella nostra regione Quindi quella lì Sarà un po' La chicca Poi abbiamo Poi abbiamo Lo spettacolo Del fuoco Con Nikita Queen Le ali con i led Quindi non solo Moda Non solo selezione Non solo bellezza Ma anche Spettacolo Per il sociale Perché io toco Sempre comunque Un tema sociale Nei miei eventi Avremo Aile Aile Pesaro Purtroppo doveva Venire il presidente Di Aile E che abbiamo perso Una settimana fa circa Massimo Sierra Ma dedicherò la serata a lui Perché è veramente Una persona eccezionale Ha sempre teso una mano A tutti E io In questo modo Voglio che gli altri Tendano una mano Aile E rappresenterà Aile Pesaro Per i suoi 50 anni L'ematologo Marino Brunori Abbiamo anche tanti premi Sono molto contenta Perché possiamo Veramente fare Una pioggia di premi A queste ragazze Premiarle E oltre con L'attestato Di partecipazione A tutte Avremo due fasce regionali Molto importanti Che sono Di bulgherini Ascensori E Alice Abbigliamento Che saranno Parte dalle fasce Ufficiali E nazionali E poi Ecco Stella Scarpa Donerà un cadò Dei suoi prodotti Alla prima Invece di Miss Grande Dona un trattamento Molto particolare Speciale Che fa Solo lei E poi Attual Viaggi Con un box travel Emanuele Gambini Che anche Orafo Ha realizzato Per l'occasione Pensate Un anello Con una forma Di cuore Proprio Per questa Occasione E poi Dai tanti Altri premi E non mi resta Che invitarvi A questa serata Come dicevo prima Non solo di cena E spettacolo E bellezza Ma veramente Piena di tantissime cose Ed emozioni E concludiamo Con una notizia Di sport È stato diramato Oggi Il calendario Della serie A Di calcio 5 2024 2025 L'Ital Service Pesaro Debutterà Sabato 19 ottobre A Roma Sul campo Dell'ex Olympus Ora Ribattezzata Roma 1927 Futsal L'esordio Al Palamegabox Sarà invece Venerdì 25 ottobre Contro La L84 Torino La regular season Si concluderà Il 17 maggio Ad Avellino Contro La Sandro Abate Ed ora Prima di passare Ai saluti In conclusione Del nostro Telegiornale Vediamo gli appuntamenti Che ci attendono Su Rossini TV A partire da Candele Sotto le stelle Un appuntamento Che si rifà Ovviamente Alla splendida serata Del 10 agosto Che andrà in onda Questa sera Alle ore 21 E 20 Per rivivere Quella magica Notte A lume Di candela A seguire Poi invece Troviamo La camminata Sotto le stelle Escursione storico Culturale Musicale Che appunto Seguirà Il programma Delle candele Sotto le stelle Andrà in onda Alle 21 E 40 E ovviamente Non può mancare L'appuntamento Con Buongiorno Rossini Il nostro Buongiorno Mattutino Da lunedì Alla sabato Come sempre L'appuntamento È alle ore 7.20 In diretta Anche su Facebook Repliche Alle 8.20 12.20 14.20 18.20 Ricordiamo Inoltre Che per Qualsiasi Segnalazione Potete contattarci Via Whatsapp O alla Nostra Redazione Per il Tg di oggi È davvero Tutto Vi ringraziamo Di essere Stati con noi Vi invitiamo Anche a non Cambiare Canale E ci vediamo Al prossimo Tg Tg di oggi